Allora, ci facciamo un bel pinter? E' l'ora dell'aperitivo, un bello pinterino, ci sta sempre bene, ce lo facciamo, dai. Una lettura, ovviamente. Le ho già detto di stare in guardia e di misurare le sue parole. E questo serva per tutti. Non mi piace come si mettono le cose. Non ti puoi fidare di nessuno. C'è qualcosa qui dentro alla quale non mi ci sono del tutto affezionato. C'è qualcosa di strano in corso, lo sento. Certa gente pensa che io sono vecchio. Ma oh no, vecchio io? Manco per sogno, ho una seconda vista io. Posso vedere attraverso i muri io. Non voglio dire che vedere attraverso i muri sia una seconda vista, no. Quello che voglio dire è che io ho una seconda vista e che posso vedere attraverso i muri. Posso captare il minimo bisbiglio nello scantinato. Non ho sprecato la mia gioventù. Ho esercitato le mie facoltà sino all'ultimo sangue. E ho speso un sacco di tempo a ponderare. Sì, a ponderare. Per esempio, questa stupidaggine del mondo che gira. È tutta una massa di palle. Se il mondo girasse non si andrebbe tutti a gambe all'aria qui dentro. Ma ci andiamo? Ci stiamo andando? E queste?